Sono Antonella Lagrasta, l'autrice del libro La chimica a bordo, dedicato agli studenti del primo biennio degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica. Vorrei invitarvi al webinar che terrò assieme all'editrice San Marco il giorno lunedì 20 marzo alle ore 15. Parleremo di come la chimica sia fondamentale nel campo dei trasporti e della logistica e di quali strategie sia possibile mettere in atto affinché la disciplina in questione diventi parte integrante del percorso di studi. L'evento è gratuito, per partecipare è sufficiente compilare il google moduli allegato che è anche presente sul sito www.editricesanmarco.it. Ai partecipanti sarà anche rilasciato un attestato di frequenza. Vi aspetto!